ragazzi è venuto in questo nuovo video oggi siamo tornati con l'ospite speciale per il mio fratello ciao siete contenti di avermi di nuovo con voi vero? no oggi sia mio fratello è tornato anche un nostro nemico che immagino anche voi lo sappiate se avete visto la mangio lo scarticello non c'ho pure i video in cui era protagonista questo il diere anche se mi piace il diere oggi andremo a fare insieme la prova a ridere challenge e se ridiamo ci dovremmo mangiare un pizzico però che sei pronto? però alla fine chi perderà dovrete decidere voi la penitenza non sono pronto no no allora metterlo da capo ve la farò vedere così perché non so come si mette un video vabbè qua tutto tranquillo guarda 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 bambino povero figlio io non posso fare nemmeno che ridere no dai povero mi schieno ma che cavolo ci rido ma che cavolo però non è giusto eh siamo già no ragazzi io non ce la faccio mi sono preparata l'acqua qua proprio prima che mi vediamo molto presto perché io rido sempre anche quando uno si fa male che cade io rido sempre sempre lei ride per sentire grazie ma ci tengo bevi bevi mangio sempre se scende ma cosciente stu cosa ma perché proprio il miele dovevo scegliere perché io potevo scegliere la nutella se era la nutella io li devo apposta per mangiarmela ok ragazzi guardate questa puntina io ragazzi non ce la faccio mi falta mettere schifo nemmeno l'altro po' lo vuoi tu? no grazie ci fai ahahahahahah lo faccio per voi 3 2 1 boom come cade? lo ce la faccio aiaah lascia mi? mmm oddio ragazzi no no è la poteca oddio no non ce la faccio oh madonna è buono ma ogni volta c'è mangio sto bene mi viene un colpa al cuore è buono sono morta ti è piaciuto vuoi sentire il mio alito nooo è schifo dio santo no non non è possibile non posso scegliere e vabbè succede succede tu vedi parlare poco ok ma che è l'unico partito dall'inizio non è dall'inizio cosa fa questo ma che cosa sta vabbè povero bambino credo che a golf non si giochi così credo io mi sto trattando che cosa ho fatto camera? batte contro il divano e poi ci salta sopra non ho senso ma sto vuole fare il cristal con la bici non so e cade come un pirla dove sei un pirla? che cavolo? ah si sente tutta f***a e alla fine plof e non è qua non l'ho ritimato? no questo è un gatto se ve lo state chiedendo è chiesto questi sono le vecchie Zitto! che f***a? questo è un gatto ma cosa hai visto? ma com'è ridito? hai riso non ho riso non ho riso non ho riso! Michele hai riso! Non ho riso dai ragazzi io ho riso per chissà! Io ho riso dopo che lei è stoppato perché... No no Michele! Hai riso basta! Io non ho riso! Dammi il dito! No! Michele basta! Io pure te lo devo mangiare per la seconda volta! No! Michele d'accordo basta! Dieci secondi dammi! No! 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 Non lo voglio sentire già! No! No è troppo! Ma che è troppo! Non lo faccio! Non lo faccio! Cioè ragazzi se non lo fai perdi automaticamente la... Come faccio a mangiarmi sto schifo? Sembra muco! Penso a me che me la sua mangiata per la seconda volta! Non lo sto facendo! C'era molto di mano! Non è vero! Stai con l'acqua! Eh! Tre! Teniti l'acqua! Pirla! Tre! Due! Non lo voglio farlo! Uno! Vai! Tutto! Mi sapevi che è troppo tardi! Mi sapevi che è troppo tardi! Si stanno facendo gli uscati qua! dopo questa challenge non toccherò mai più il miele e vitamina forse è finito di farti ghiacqui? no, affermisci pulisci la bandina aspettiamo questo che si disintossica poi ricominciamo qui nel video ok ragazzi vieni parta è la bottiglia 30 miele me lo sto bevendo Michele ha detto la bottiglia no ragazzi mi ho diventato male c'è la bottiglietta e la sporca di miele lui si deve bevuto ah ragazzi volevo dire una cosa vi ricordate l'ultimo video che ho fatto se non mi sbaglio l'ultimo i preferiti del mese di gennaio il bracciale ecco il giorno dopo ovvero ieri l'uno febbraio proprio per iniziare il nuovo mese mi si è rotto grande perché ha capito che col mese era finito quindi ormai era il momento di togliersi mi pare giusto che l'uno febbraio si viene a rompere ovviamente Michele è finito sta asciugando la bottiglia ci sta asciugando i milani ci sta stai dita che cosa è che tu non sono mangiato le cose e appunto a me non so cosa devo fare i sacque i sacque oddio ma fa schifo asciugando l'alondino ragazzi voglio raccontare un'anedota che riguarda questo tizio qua no no non ti rischia allora ieri sera questo tizio si voleva si fare nella parte di tarza con la tenda e l'asciuppata e si è appeso la tenda e l'ascippato tutte cose le cose per tenere la tenda e l'ascippato tutto ragazzi la sostanza c'è un buco tanto e lei dorme una cosa bella? e lei dorme una cosa bella? voleva fare tarza non mi ricordo stop al video ai 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 a 10 anni a 10 anni vuoi fare tarza con la tenda ma stai scherzando no vabbè ragazzi top ragazzi 10.000 like sono 10.000 un milione vai riprendiamo è un saggio l'avevamo visto si cercate comunque io già questo l'avrei visto vedete che ve lo fa ti fa il galo il galo si sveglia e no Michele parla bene e vabbè io mi sto tratturando troppo troppo con scoppi ma dai hai visto? non ho riso hai visto? no ragazzi non ho riso hai visto? no Priscilla non ho riso ho fatto ho fatto non ho ridere questo ok vabbè non ti scaldare però Dardan tu non ti sei preso niente io non ho riso quando per te non l'ho stoppato lì e chi è? aiii cosa hai ne ho? Michele stai fermo ma c'è la prima volta non riesco a pesare un sale non so voglio prendermi un altro miele aspetti mio nome io sto scoppiando va bene ho il triccione anche bello che devo scendere non ci sono che devo dar ma non posso dire mai? io non posso dire oh no ma sono tutti sbagliati ma come fai per non ridere? ma tu neanche stai ridendo si ma io mi sto trattenendo tu non ti trattieni avvicinati perchè? perchè? la mimma che corre e cade come un scemo tiro di testa? no non se lo fa tuffo più bello dell'anno eh 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 è successo ragazzi l'avevo detto che scoppiamo ragazzi ma secondo voi è normale come cavolo ride sta persona? stai zitto Tarzan stai zitto io suonavo sopra il nome Tarzan ora non lo presenterò più come mio fratello ma bensì come Tarzan io si ha perso lui ma che perso io ha perso lei io l'ho preso solo una volta a lei tre volte con questa e poi non può finire ora ragazzi si può finire ora perchè è già entrato 12 minuti dai ragazzi dai l'ultimo video dai l'ultimo dai l'ultimo ragazzi non ce la faccio la puzza di sto cosa no no ragazzi non ce la faccio si sente? ahahah ho trettenuto il fiato proprio quando tu me l'hai fatto quindi te eh volevi ahia mi ha fatto male Tarzan ragazzi non ce la faccio comunque scrivete qui sotto nei commenti se vi piace il miele perchè penso che a nessuno mi piace si fa troppa buzza e non ce la faccio ok l'ho messo l'ho messo al dito lo so se fai tre acqua tre due uno c'è papà ok ce l'ho fatta allora quindi è terminato se volete che vi sia piaciuto se volete lasciate il mio mi piace i miei commenti iscrivetevi al canale e iscrivetevi qui sotto i commenti della penitenza che dovrò fare ciao una bella penitenza tu zitto Tarzan stai zitto